Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo appuntamento con la Gara School. Questa settimana ci troviamo con i ragazzi dell'SS33 Sempione. Siamo nel loro quartier generale. Perché? Perché ci hanno invitato, perché ci avviciniamo. Una data importantissima, l'11, 12 e 13 aprile, ci sarà il quinto Custom Road. Ormai le nostre telecamere sono abituate, perché di solito iniziamo dalla fiera, dall'evento. Invece questa volta hanno detto, no, ma vieni, perché noi siamo in preparazione con l'organizzazione, però a fine settimana un po' di musica, una birra, vieni, dai un'occhiata, ti rilassi. E io ho detto, vabbè, perché no, facciamo vedere agli amici a casa cosa c'è dietro al lavoro, dietro a quello che sarà uno degli eventi più importanti nel settore fieristico italiano, legato al settore custom. Però ovviamente non sono la persona adatta. Andiamo un attimino con gli organizzatori. Intanto le telecamere faranno un'inquadratura, una panoramica del quartier generale, come l'ho chiamato io, e verranno un po' tutti i ragazzi. Seguitemi. Grazie a tutti. Bene, mi trovo tra, come diciamo, nell'ambiente bikers e tra fratelli, perché ormai questo è il terzo anno che collaboriamo assieme, anche se è la quinta edizione. Sono con Raffaele e con Ettore. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao Davide. Ciao. Io sono rimasto piacevolmente colpito perché, come sempre, ho il programma qua. Io inizierei con Raffaele, perché quest'anno, Raffa, ci sono veramente un'infinità, ma c'è delle cose bellissime. C'è veramente, ho visto spesso, c'è il Demolition Derby, c'è le Legend Cards, poi lo show degli Stuntman, insomma, c'è veramente di tutto. Sono tre giorni di divertimento, che tanto gli amici a casa vedranno, perché riprendiamo tutto, quindi non ci sarà... Però una piccola anticipazione la diamo un attimino, e poi quello che mi ha incuriosito tanto, come vedremo dopo nelle riprese, o comunque le farò mettere in sovraimpressione, è una bellissima 500 del 1973, che ora ci parlerà anche di questo. Intanto illustraci un attimino quello che sarà la scaletta dei tre giorni. Allora, si partirà il venerdì a mezzogiorno, fino a mezzanotte circa, perché già col venerdì iniziamo con una serata country all'interno del padiglione numero uno. Ci sarà una band, un DJ set proprio dedicato a questo mondo, con tanto di pedana per far ballare un attimino tutti gli appassionati di questi balli, di questa danza. Successivamente il sabato sera, il sabato invece i padiglioni al mattino apriranno alle 10, e anche nella serata ci sarà un seguito con un concerto live. Vi voglio ricordare le due band, ci saranno i Bad Bones e The McChicken Show. Dopodiché ci sarà anche un attimino uno stacco con Rock & Roll, non so se te lo ricordi, che andava in onda anche su Sky, il comico, che ci farà fare quattro risate. E poi un programma vastissimo, i tre padiglioni come al solito saranno suddivisi in padiglioni merchandising, padiglione dedicato ai customizer, e un padiglione dedicato alle macchine americane. Nella parte posteriore appunto della struttura avverranno tutti gli spettacoli, e quest'anno abbiamo voluto aggiungere qualche chicca con i Demolition Derby, ci saranno appunto le Legend Car, già l'abbiamo visto qualcuno l'anno scorso, però purtroppo le condizioni avverse non hanno fatto sì che si potessero esibire e dare il meglio. Speriamo che quest'anno siamo un po' più fortunati, di essere un po' più fortunati. avremo degli spettacoli di drifting e non potevano mancare chiaramente un po' di salti con le moto, con i ragazzi dei Coerenza Brothers. Però arriviamo anche alla lotteria, perché io vi vorrei ricordare che lo scorso anno questi pazzi hanno venduto un biglietto della lotteria con, mi sembra, uno sposter preparato, se non è, al Papa. Poi il Papa non l'ha vinto, sono sicuro che in Vaticano non c'era con la moto, però questi pazzi hanno veramente venduto un biglietto al Papa della lotteria. Quest'anno invece vedo un cinquino del 1973. Dici un attimo qualche caratteristica, come mai? È strano, veramente strano. Come puoi vedere la 500 in sé per sé non è molto originale, nel senso anche qui parliamo di un'auto customizzata, in stile Abarth. Quest'auto ci ricollega un po' a quello che è successo due anni fa, non so se ti ricordi quando avevamo quella special molto particolare del valore di circa 70.000 euro in lotteria che c'era stata donata da questa persona che ha voluto far del bene appoggiandosi a noi, sapendo di quello che ci occupiamo, quest'anno si è ripresentato e ci ha portato questa chicca, che è questa 500 appena finita, tra virgolette, sono appena finiti i lavori e ce l'ha data appunto da mettere in lotteria per raccogliere i fondi perché vi ricordo che questo evento è un evento benefico e lo scopo è sempre quello, quindi fare del bene e dare una mano a chi ne ha bisogno. Quindi io ti comunico che qualche biglietto lo compro, poi però metti che il vinco non venga fuori, ah, gliel'hanno data apposta perché insomma ragazzi le immagini le avete viste, l'auto merita. Che dire, mi hai parlato, hai fatto scendo, ho un discorso comunque di beneficenza adesso. Ora io il discorso beneficenza i nostri amici a casa lo sanno perfettamente perché le puntate sono passate anche in replica tantissime volte perché ripeto, comunque anche secondo me una delle manifestazioni legate al settore custom bikers e non solo perché comunque c'è auto americane, comunque secondo me è una delle più riuscite in Italia, veramente, da subito e anche se l'anno scorso ha piovuto, che ricordiamo che abbiamo fatto dei numeri, è grossi. Sì, abbiamo fatto dei bei numeri l'anno scorso, nonostante l'acqua, abbiamo fatto gli stessi numeri dell'anno prima con più di 20 gradi, quindi un evento che comunque mette insieme circa 15.000 persone, non è poco. Ti voglio ricordare una cosa, anche quest'anno all'interno dei padiglioni è stata realizzata un'area dedicata ai bambini dove i genitori, le famiglie possono venire lì, lasciare i bambini in compagnia delle animatrici e intanto visitare la fiera lasciando i bambini in un luogo sicuro a divertirsi. Chiaramente è tutto gratuito. E chi volesse trovare Raffa lo trova sempre lì perché l'anno scorso era rifisso lì, quindi me lo ricordo perfettamente. Ora passo un attimo a parole a Ettore e parliamo un secondo il discorso del sociale perché tutti gli anni i nostri amici dell'SS33 Sempione hanno come caratteristica la beneficenza. Quindi Ettore, quest'anno come ci stupite? Quest'anno stupiamo, stupiamo perché negli ultimi anni, lasciami ricordare, abbiamo avuto sempre delle iniziative e siamo sempre arrivati prima degli altri. Due anni fa abbiamo dato un contributo al caporale Luca Berissonzi che è un alpino di vent'anni gravemente colpito alla schiena in Afghanistan. Poi siamo passati l'anno scorso a Bea che è una bambina torinese colpita da una malattia degenerativa che colpisce le parti molle delle articolazioni. Abbiamo dato un grossissimo contributo alla Magica Cleme Onlus che è una onlus che si occupa all'ospedale San Gerardo di Monzo di bambini terminali di tumore. Quindi abbiamo sempre cercato di trovare dei casi molto importanti che si erano appena venuti a sapere. Senza contare che per più di due anni siamo stati molto vicini a Cavezzo, che è una città colpita dal terremoto di due anni fa. Quest'anno sentendo telegiornali, televisioni, sentendo e leggendo sui giornali quello che succede, dove un mare di famiglia hanno perso il posto di lavoro, anche qua al nord, anche qua a Bustarsizio. Quindi abbiamo delle situazioni in limite dove i capi famiglia o dei giovani si ritrovano senza lavoro e stanno andando molto in depressione perché non ne riescono a venire. Quest'anno è stato proposto dai ragazzi dell'SS 33 Sempione che con il netto ricavato della manifestazione e il netto ricavato della lotteria si costituirà un fondo per famiglia, per aiutare le famiglie. È un fondo un po' particolare, ovvero sia una volta stabilito quello che sarà il totale da mettere nel fondo, tramite l'amministrazione comunale, il distratto umano e il commercio, individueremo delle persone non da dare dei soldi per risolvere i loro problemi a breve, ma per rimettere nel circuito lavorativo. Quindi la gente verrà, fra virgolette, assunta per svolgere dei lavori e questi lavori saranno pagati. Questa è una motivazione moralmente alta, nel senso che gente che è presso il posto di lavoro che chiede solo di lavorare, abbiamo trovato un sistema, anche se per un periodo temporaneo, da poterla rimettere nel circuito del lavoro. Questo penso che sia una cosa che piace a molti, qua nella nostra zona è una cosa che è stata apprezzata ed è stata occupiata da tanti. Noi questo sistema ce lo siamo inventato tre anni fa, alla prima inizione del Custom Road, qua a Busto, dove abbiamo già utilizzato lo stesso sistema per i parcheggi. Quindi abbiamo individuato delle persone disoccupate e per i tre giorni della fiera abbiamo dato loro un lavoro. A noi dispiace quest'anno magari non individuare qualcuno per fare della beneficenza, però la situazione è talmente grave e particolare che quest'anno ci dedichiamo proprio sulle famiglie. Ragazzi, io vi ricordo anche di andare un attimino sul sito che vedete in sovraimpressione, così le informazioni che vi hanno dato Raffaele e Ettore immagino si trovino. Il cinquino è fantastico. Però a parte quello, di una cosa abbiamo parlato, mi ricordo che gli anni scorsi c'era comunque un contest artistico, quest'anno ci sarà, mi ricordo, Body Art, Peace Striping, ci risarà anche quest'anno immagino. Sì, 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 sarà cura di Carlo, il nostro Carlo, che raccoglierà e metterà insieme un po' tutti gli artisti. Quindi ci saranno aerografisti, pinstriper, quindi tutto ciò che comprende un po' il mondo dell'arte sulla moto. E vedremo anche di trovare qualche modella che si offrirà per fare un po' di Body Art. Tutto questo, grazie, se la telecamera vuole farsi un giro, tutto questo grazie a loro, che sono ragazzi meravigliosi che con la scusa dell'Arlen Davison, con la scusa del Castor, con la scusa di ritrovarsi riescono a organizzare una festa enorme, bellissima, con dei fini che sono veramente ammirevoli. Sono ragazzi che di mestiere fanno tutt'altro, però dedicano tutti una settimana del loro tempo al Castor Road. Altri di più perché sono magari più dentro nell'organizzazione. Però tutti loro si prestano a 360 gradi per portare avanti il nostro sogno, che è quello di divertirci facendo il bene. Ettore, hai detto quello che la gara school si è imposta nelle ultime otto puntate, quelle invernali, diciamo, che chi ci segue a casa avrà visto che ultimamente di moto o auto ne vediamo veramente poche. Noi siamo andati nelle clubhouse con le nostre telecamere proprio per far capire il senso di fratellanza, che non è tanto avere una moto, ma è quello che ha detto Ettore. Questi ragazzi, che ora andremo un attimino a vedere, sono tutti riuniti, tutti per una causa comune, tutti a costo zero, cioè a fatica. Per questo che stiamo costituendo il fondo, perché prima o poi perderanno il lavoro, visto il tempo che dedicano. Ecco a chi è andato. Ragazzi, io vi posso solamente ricordare 11, 12, 13 aprile, Castor Road, Bustarzizio, Roma. Grazie a tutti. Grazie a tutti.